Tutto è iniziato all'indomani di un controllo fiscale eseguito in un deposito di prodotti petroliferi a Mariglianella in provincia di Napoli. Gli uomini della Guardia di Finanza, spulciando la documentazione, hanno verificato uno scenario che li ha insospettiti. Da questa situazione l'inchiesta ha preso un nuovo slancio ed ha portato questa mattina all'emissione di 4 divieti di dimora nei confronti di altrettanti indagati e il sequestro di oltre 1,2 milioni di euro in un deposito commerciale di un distributore di carburante di 4 automezzi. In azione i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, coordinati dalla Procura di Nola. Come detto, le fiamme gialle avevano iniziato a indagare dopo un controllo fiscale eseguito in un deposito commerciale di prodotti petroliferi proprio nella provincia partenopea. Dalle irregolarità fiscali emerse, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziare di Napoli hanno scoperto un acquisto anomalo di prodotti petroliferi che avveniva malgrado fosse stata revocata la licenza nel 2018. Gli approfondimenti investigativi hanno evidenziato che il carburante, enormi quantitativi di gasolio per autotrazione di contrabbando, veniva acquisito attraverso una società che faceva da filtro. Il meccanismo illecito consentiva quindi la vendita del gasolio a prezzi più bassi e quindi illecitamente concorrenziali. Da qui le indagini e poi i provvedimenti di questa mattina.